mezzo a una bufera di neve sul bollettone eccoci qua ea sto facendo col telefono stavolta ehi Bessu ehi Lele non mi hai faccio il pollice fatto guardate qua sotto la croce no stavo volando eccoci e ora scenderemo da lì esattamente in mezzo a quelle piante fino giù in fondo all'albavilla Lele che si uccide mentre Bessu sta morendo di freddo sto ancora bene andiamo a vedere a vedere che temperatura c'è guardate quanto stanno andando grossi i fiocchi la temperatura è di seee la faccio vedere 0 gradi centigradi potreste andare al bg anche no qua dopo questa battuta e ottimismo io finisco il video ciao